Io ringrazio il Presidente, per me è un momento veramente di grande commozione perché questo premio, al di là di tutti gli altri premi, è un premio che proprio viene dal territorio perché voi l'Associazione siete proprio connaturate a questo territorio con tutte le sue caratteristiche che poi è il territorio aquilano. Vi porto il ringraziamento del Prefetto Vittorio Pisani, il Capo della Polizia, che mi ha delegato, per me è stato un onore a ritirare questo premio, ma io devo ringraziare soprattutto il personale della Polizia di Stato perché questo è un premio che va al personale che anche in questo momento ci sono i ragazzi in strada, la notte, il giorno, per assicurare la sicurezza della città. Grazie anche all'Associazione della Polizia di Stato dove militano tanti ex poliziotti che hanno fatto anche loro la loro parte. Noi come Polizia di Stato garantiamo a 360 gradi, oltre che l'attività repressiva con cui concorriamo con le altre forze di polizia, ma soprattutto la nostra missione è l'ordine e la sicurezza pubblica. E su questo abbiamo dato abbastanza prove di buon funzionamento. C'è qui Sua Eccellenza a cui rinnovo gli auguri con cui ho condiviso in prima persona un evento epocale dove la gestione della sicurezza e le preoccupazioni per l'esito dell'evento che abbiamo condiviso perché Sua Eccellenza in quel momento era stato delegato direttamente dal Cardinale anche di avere rapporti diretti con noi per tante problematiche di carattere tecnico-operativo che avremmo potuto incontrare. Ecco, quella è stata una risposta epocale dove la Polizia di Stato insieme a tutte le componenti civili ha dato una risposta concreta che ha avuto risonanza a livello internazionale. Quindi nelle grandi occasioni non abbiamo mai mancato. Però la cosa che mi ha colpito è questa frase che hai ripreso del Papa dove dice «Vi aiuterà a porre la forza al servizio dei grandi valori della vita, della giustizia, del perdono e della libertà». Ecco, questo è molto importante e l'occasione di questo premio è per ricordare che oggi alle forze di polizia non soltanto la Polizia di Stato ma anche l'arma di Carabinia e la Finanza hanno davanti delle sfide più importanti. Questa forza di combattere, in che cosa consiste questa forza di combattere? Giustamente ci avete dato il premio per il ritrovamento della reliquia scomparsa. Oggi non basta ritrovare la reliquia, non basta sequestrare la droga, non basta accertare i reati. Ci viene chiesto un qualcosa di più che va anche oltre quello che la nostra professionalità è il taglio professionale di noso, che è un qualcosa che riguarda anche l'abbattimento di questo senso di insicurezza percepita che non corrisponde con l'andamento dei reati concreti. Cioè noi abbiamo una sicurezza reale che non corrisponde con la percezione di sicurezza dei cittadini. C'è un qualche cosa nell'aria che non corrisponde al numero dei reati che preoccupa e istica un senso di paura. Ecco, la nostra missione non è solo quello di scoprire i reati ma di abbattere anche questo senso di paura, di percezione che molte volte non trova corrispondenza nella realtà dei fatti che però pervade la società anche per questa velocità dell'informazione delle informazioni sbagliate, delle informazioni manipolate. Quindi noi dobbiamo combattere il senso di paura, dell'avere paura. Ed è un'impresa non da poco, a cui forse molte volte non siamo nemmeno preparati. Quindi questo fatto di questo impegno ulteriore che viene chiesto alle forze dell'ordine oltre a quello dell'operatività giornaliera è un qualche cosa che merita questo premio e forse qualcosa di più. E io voglio ringraziare come capo della Polizia di Stato gli agenti e tutti i personali e tutti i ruoli della questura dei commissariati e della Polizia di Stato ma anche come questore Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza Tecnica anche il comandante, la Guardia di Finanza e i carabinieri, la Polizia di Stato, la penitenziaria che sta qui presente e con cui abbiamo risolto tanti altri problemi perché il premio oggi la prende la Polizia di Stato ma il sistema sicurezza è un sistema integrato che vede la componente di tutti e di tante forze di polizia. E io come Autorità Provinciale oggi mi posso permettere di dire che il sistema sicurezza è nel pieno della sua funzionalità qui all'Aquila. Quindi ringrazio tutti per questi risultati e per questa collaborazione. Grazie a tutti.